Musica Alle 3 2014 Electronic Arts presenta il terzo capitolo di Dragon Age mostrandolo prima in conference e poi qui sullo show floor Dragon Age Inquisition è un sequel diretto dei due apprezzatissimi giochi di ruolo arrivati nel corso della passata generazione di console la trama si ambienta in un mondo oramai devastato dall'assalto di creature demoniache e tutta l'avventura sarà giocata in una porzione del mondo di gioco 5 volte più vasta rispetto a quella dei precedenti capitoli questo aumento di estensione non è l'unica vera grande novità del prodotto anche a livello di gameplay il titolo cerca infatti di superare le vecchie iterazioni proponendosi come un RPG completissimo il gioco mescola efficacemente sequenze di gameplay più tattiche in cui possiamo avviare una pausa e dirigere diciamo l'IA dei nostri compagni a momenti più orientati verso l'action RPG in questa maniera cerca quindi di accontentare tutti i fan storici del franchise sia chi ha apprezzato la pausa tattica di Dragon Age Origin che chi invece ha gradito molto la deriva action del secondo capitolo dopo averlo visto in azione a noi è sembrato francamente che Dragon Age Inquisition funzioni molto meglio quando si arriva a menare le mani direttamente ma speriamo che da qui all'uscita del prodotto il team possa lavorare anche sull'intelligenza artificiale per fare in modo che la componente strategica sia fondamentale nell'economia di gioco a livello tecnico il motore grafico messo a punto da BioWare risulta sicuramente migliore di quello dei precedenti capitoli è migliorata non solo il field of view ma anche la qualità delle texture e delle animazioni dei personaggi Stilisticamente Dragon Age Inquisition si allontana un attimino dal look molto peculiare del primo capitolo e abbraccia invece un contesto fantasy un po' più regolare ma reso molto molto affascinante dalla realizzazione tecnica sicuramente buona Noi vi lasciamo alle immagini di gioco confermandovi che il prodotto è sicuramente ampio il mondo smisurato e speriamo il numero di quest adatto a tenervi impegnati per ore e ore di gioco Grazie Grazie Grazie